erano in due si aggiravano per le vie del centro in pieno giorno ad urbino a volto scoperto due topi d'auto detti così in gergo giovanissimi senza troppe remore ieri pomeriggio hanno iniziato ad operare sulle auto che trovavano una via l'altra scassinandone alcune e provando ad aprirne altre appoggiandosi alla portiera di schiena ma senza soluzione di continuità spavaldamente non curanti del fatto che qualcuno invece potesse notarli e chiamare le forze dell'ordine e così è stato carabinieri sul posto presi con le mani nel sacco ed arrestati sono due uomini 20 e 19 anni uno residente nell'urbinate l'altro senza fissa dimora italiani e tutte e due con precedenti penali sempre inerenti ai furti d'auto sono stati arrestati ieri pomeriggio in tarda serata dai carabinieri della compagnia di urbino per tentato furto e furto aggravato in concorso su autovetture al 112 era arrivata la segnalazione da parte dei cittadini residenti nelle vie interessate dal loro ride di due persone che si aggiravano tra le auto con modi sospetti subito è scattata l'operazione dei militari coordinati dal comandante renato pugliesi che ha mandato sul posto alcune pattuglie pattuglie però precedute da due carabinieri liberi dal servizio che ha preso dell'operazione e trovandosi nei paraggi non hanno esitato a raggiungere il posto per intercettare subito i ladri e coglierli sul fatto e così è stato in corso garibaldi i due sono stati presi proprio mentre stavano uscendo da un'auto che avevano appena forzato parcheggiata lungo la strada inseguiti e poi raggiunti nei pressi del teatro sanzio sotto gli occhi dei passanti ma per loro sono scattate subito le manette molte le denunce di diversi cittadini per questo tipo di furto al momento 5 sono le auto accertate violate dai due malviventi ma le indagini del carabinieri sono ancora in corso anche utilizzando le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza nelle zone interessate per individuare altri mezzi visitati diciamo così dai due topi d'auto addosso ai due ventenni sono stati trovati arnesi da scasso verosimilmente utilizzati per introdursi all'interno delle autovetture gli arrestati giudicati nella mattinata odierna con rito direttissimo presso il tribunale di urbino è stato inflitto il divieto di dimora nel comune di urbino fondamentale ribadiscono i vertici dell'arma il rapporto di fiducia tra cittadino ed istituzioni cosa che ha permesso in questo caso di sventare fastidiose azioni criminose e assicurare alla legge i malviventi